Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIP-Li, dove al momento ci sono code in uscita alla Strassigna, provenendo da Firenze. Sempre provenendo da Firenze, si segnala la chiusura per lavori dell'uscita di Tirrenia. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano Nord e Impruneta in direzione Firenze. Sulla statale 2 via Cassia, senso unico alternato per lavori di ripristino dopo una frana tra i chilometri 150 e 700 e 151 a Radicofani, in provincia di Siena. Per la viabilità cittadina, a Firenze è chiusa la rampa di accesso al Viale Truria dal lato di via Simone Martini per sostituzione Guarrail. Informazioni sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!